Oggi sabato, 4 novembre, festa delle forze armate, ci troviamo al nuovo di via Olimpia per la terza gara di campionato allievi provinciali categoria Chieti. Qua ci sono i nostri ragazzi della Virtus Castelfreddano, anzi rettifico, giovanissimi, di mister Giovanni Di Giulio. È la terza gara di campionato da calentario, si doveva giocare lunedì ma è stato posticipato ad oggi in quanto lunedì c'è il raggruppamento della scuola calcio in questo campo, quindi non potevamo fare a meno. È la terza giornata, giocheranno contro la giovanile Chieti che già si trovano puntuali, stanno facendo un po' di gradoni. Ah no, il gradone è la prima squadra nostra, di mister Marco Piccirilli che stanno facendo i gradoni, mentre qua ci sono i ragazzi della giovanile Chieti già pronti, scattanti. Qua in fondo c'è il blocco che partirà dalla panchina, qua c'è il nostro dirigente consigliere Adriano Gian Cristoforo, qua abbiamo il secondo portiere Dinella Lorenzo, in porta abbiamo Daniele Ucci, questo è il blocco che partirà da titolare. Stanno raccogliendo gli ultimi consigli dati dal tecnico, mister Giovanni Di Giulio, i nostri ragazzi sono reduci da una sconfitta subita sabato scorso a Cepagatti contro la FC Chieti 1922 e oggi si devono rifare. Abbiamo qualche assenza oggi, specialmente nel reparto difensivo. Fra poco riprenderemo le entrate in campo, a fra poco.